Io penso che alcuni dei nostri debutati sono stati recentemente in visita in Corea del Nord o sono suggestionati da determinati regimi. Io penso che la libertà di opinione... E poi guardi, fondamentalmente tutto questo fenomeno risponde a una necessità della gente di essere informata. Se le istituzioni avessero informato in modo chiaro, univoco, e le decisioni prese avessero avuto effetto, non ci sarebbe stato bisogno di nessun altro. Il fatto è che la gente è affamata di informazioni che non vengono date in altro modo. Guardi, è una questione di... Domanda e offerta, dice lei. Perché se i programmi dove ci sono persone come me o altri avessero un basso share, non ci andrebbe nessuno più, non verremmo più chiamati da nessuno. Il problema è che c'è una richiesta comprensibile delle persone, ma questa richiesta, questa fame di notizia, la responsabilità è tutta di coloro che non le hanno date in maniera corretta. Allora, Claudio...